Canale YouTube di Luigi Gaglio Urbanizzazione, un mondo fatto di città Nel 2009 la popolazione che vive nelle città ha superato per la prima volta il numero degli abitanti di chi vive invece non in città per esempio nelle campagne fuori della città è una svolta storica Nel 2009 è avvenuto questo nel 2011 poi il sorpasso è avvenuto anche nella nazione più popolosa del pianeta fino a pochi decenni fa essenzialmente contadina la Cina invece nel 2011 vede un numero di persone, di abitanti quindi concentrate nelle città superiore a quello che vive nelle campagne ma prima di parlare insomma delle città nel mondo d'oggi possiamo anzitutto ricordare che la parola città deriva dal latino civitas che però esprimeva un'idea non molto materiale tant'è vero che da questa stessa parola deriva anche cittadinanza per esempio è riferita ai legami interpersonali grazie ai quali una massa di individui forma una società mentre la parola che indicava l'immagine fisica della città con le sue abitazioni, palazzi, edifici, strade e spazi pubblici in latino era un'altra era la parola urbs da cui però deriva ad esempio l'aggettivo italiano urbano ecco qui abbiamo delle definizioni di città centro abitato di dimensioni demografiche non correttamente definibili a priori, comunque non troppo modeste sede di attività economiche in assoluta prevalenza extra agricole e soprattutto terziarie pertanto in grado di fornire servizi alla propria popolazione e a quella di un ambito più o meno vasto che ne costituisce il bacino ad utenza o l'area di influenza città centro abitato di dimensioni demografiche che più o meno a grandi linee potrebbe essere di circa 50.000 abitanti come dire, dicevamo sede di attività economiche in assoluta prevalenza extra agricole infatti c'è stata la città industriale nei decenni precedenti la città aveva una zona industriale la città, pensate appunto a Milano era un agglomerato anche di industrie oggi come oggi nella città sono concentrate altre attività che sono quelle del settore terziario quindi dei servizi ecco, lasciamo perdere anche questa definizione di città per l'enciclopedia Treccani volete che la leggiamo insieme? potrebbe essere anche utile la città è uno degli elementi umani dello spazio geografico in particolare un elemento insediativo è un elemento economico è o può essere anche un elemento politico perché vi si concentrano almeno alcune attività di governo da quelle locali a quelle nazionali o internazionali la città è spesso capoluogo di una nazione oppure può essere capitale insomma oppure può essere capoluogo di una regione di una provincia o di un'area metropolitana comunque le città metropolitane abbiamo noi adesso in Italia ancora un elemento culturale in quanto luogo elettivo della produzione di cultura cioè si sceglie di produrre cultura in città è sede di beni culturali accumulatisi nel tempo come ad esempio monumenti, musei, biblioteche da tale molteplicità di funzioni si evince l'importanza della città e si comprende come essere esulti uno degli elementi guida nell'organizzazione dello spazio ecco la storia della città le origini della città bene noi che abbiamo studiato appunto la storia antica insomma sappiamo che è stato importantissimo il passaggio dal villaggio alla città che è avvenuto più o meno intorno al quarto millennio avanti Cristo tanto per incominciare in alcuni insediamenti presso i fiumi Tigri ed Eufrate si sono trasformati sono diventati da villaggi a città nella città il potere è centralizzato ogni abitante ha una funzione specifica mentre nel villaggio tutti fanno tutto diciamo tra virgolette nella città c'è una differenziazione il villaggio si caratterizza solamente per le attività ad esempio attività agricole eccetera mentre nella città si svolgono anche altre attività pensate alle attività artigianali artigianato e di servizi come il commercio poi abbiamo studiato la storia greca abbiamo studiato che ad esempio i greci hanno creato tante colonie ecco quindi la differenza tra il termine metropoli e colonia metropoli è un termine di derivazione greca che vuol dire città madre e invece le colonie come abbiamo visto sono importantissime le colonie fondate dai greci nell'Italia meridionale che sono apoichia lontano dalla città ma che continuano a mantenere gli usi e i costumi della metropoli cioè della città madre abbiamo poi studiato le poleis quindi le città stato indipendenti che si sono sviluppate in Grecia nell'età classica abbiamo visto anche la crisi delle poleis e poi appunto l'impero di Alessandro Magno studieremo il prossimo argomento sarà proprio l'inizio della storia romana qui vedete la città romana che è caratterizzata dal castrum e dal palazium il castrum è il diciamo così modo di organizzare un accampamento militare che poi viene anche applicato nella costruzione di alcune città il palazium da cui palatino è invece proprio all'inizio la Roma quadrata cioè il nucleo originario della città bene poi ecco questa è infatti una pianta di una città romana come vedete nelle città romane si intuiscono si vedono sempre chiaramente due vie importantissime che sono il cardo e il decumano perché la città romana come abbiamo detto anche prima non è altro se non la come dire è organizzata esattamente nello stesso modo in cui è organizzato un castrum cioè un accampamento romano poi nel medioevo si sviluppano le città fortezze perché dovevano essere inespugnabili da parte dei nemici del territorio ma anche da parte di invasori provenienti da altre di altri popoli insomma ecco quindi perché le città si arroccano quindi si costruiscono sulle rocche ben difese da mura da mura città sacre come la Mecca capitali come Washington DC bene un punto di svolta fondamentale per l'urbanizzazione nel mondo si ebbe con la rivoluzione industriale che determinò un esodo dalle campagne verso i centri urbani pensate appunto a Londra già verso la fine del Settecento a causa della macchina a vapore che veniva utilizzata anzitutto nell'industria tessile si verificò questo fenomeno di urbanizzazione questa è l'evoluzione della popolazione urbana in alcuni paesi come vedete qui per esempio abbiamo il Regno Unito Regno Unito la popolazione urbana si si raddoppia tra il 1815 fase della prima rivoluzione industriale è il 1870 quando inizia la seconda rivoluzione industriale per poi aumentare ancora di più dopo la prima guerra mondiale in questa cartina potete vedere l'urbanizzazione del mondo la popolazione urbana ecco le zone in verde sono quelle in cui è inferiore la percentuale della popolazione che si trova nelle città e quindi la maggior parte della popolazione si trova nelle campagne invece nelle zone in arancione e in viola la popolazione è concentrata nelle città ma prendiamo la cartina alla pagina 261 ecco questi quadratini verdi simboleggiano un milione di abitanti potete quindi vedere quali sono le città più abitate del mondo quindi in America ad esempio New York città del Messico San Paolo in Europa Londra Mosca in Africa il Cairo come vedete però la maggior parte delle città più abitate del mondo oggi come oggi sono concentrate in Asia Mumbai la città del nostro film The Millionaire Delhi Calcutta in India poi ancora Jakarta in Indonesia Pechino Shanghai in Cina Seoul in Corea del Sud Manila nelle Filippine e tantissime città nel Giappone dove si crea proprio il fenomeno della conurbazione c'è una serie di città una legata all'altra di dimensioni molto vaste molto molto abitate queste città ah la conurbazione conurbazione una città collegata insieme con altre città è il caso appunto di queste città giapponesi che sono una attaccata all'altra Kyoto Saka Kobe e Tokyo che è la capitale del Giappone ecco quindi la metropoli ve l'ho già detto originariamente metropoli che significava città madre accanto alla metropoli si crea però un'area metropolitana quando l'espansione territoriale del nucleo urbano principale raggiunge i nuclei più piccoli preesistenti che all'inizio erano dei sobborghi o dei paesini addirittura catturandoli e inglobandoli nel proprio tessuto si forma un'agglomerazione la rete urbana monocentrica l'area metropolitana andiamo per esempio adesso alla pagina 262 dove troviamo questa box di approfondimento su che cos'è un'area metropolitana si indica con questa espressione la zona urbanizzata che si estende anche al di là dei confini amministrativi di una data città ovvero un insieme di diverse città connesse fra loro senza soluzione di continuità per esempio la città di Tokyo in senso stretto ha solo 12 milioni circa di abitanti solo tra virgolette la conurbazione ecco vedi quel termine che stavo spiegando prima la conurbazione Osaka, Kobe, Kyoto è nata dall'unione di tre città a un tempo distinte ma ora fuse in un unico tessuto urbano ecco qui vedete un'altra cartina un grafico questa volta che mostra l'evoluzione della percentuale di popolazione urbana nelle varie regioni abbiamo già detto che in Europa America Latina America Settentrionale Oceania eccetera già nel 1950 o comunque nel 1975 la popolazione delle città era superiore la maggioranza della popolazione era nella città rispetto alle campagne mentre in Africa e in Asia assolutamente era inferiore ma abbiamo detto che già nel 2009 in generale nel mondo e nel 2011 perfino in Cina il numero delle persone che abitano nella città ha superato il numero delle persone che abitano nelle campagne allora adesso dobbiamo però approfondire alcune problematiche e lo facciamo stavolta senza l'utilizzo delle slide ma con il nostro libro di testo allora parliamo per esempio delle funzioni delle città andiamo alla pagina 260 anzitutto una funzione di tipo economico infatti un centro di scambi e di commerci infatti le attività commerciali e finanziarie pensate alla borsa la borsa di Milano nel nostro caso sono concentrate nelle città dove ci sono anche svariate categorie di artigiani e quindi di attività commerciali ma anche altri servizi per esempio già nel Medioevo c'erano gli artigiani dicevamo quindi per esempio i tessitori i fabbri poi c'è stata la rivoluzione industriale dicevamo le industrie ma poi le attività commerciali del settore terziario che si sono sviluppate tantissimo in questi ultimi decenni la città ha una funzione politica l'abbiamo già detto può essere un centro amministrativo può essere una capitale centro amministrativo in cui ad esempio si riscuotono i tributi già questo alle origini della storia della città le prime città per esempio quella della Mesopotamia era una città in cui si riscuotevano i tributi nel senso che i contadini dovevano pagare un tributo al tempio e questo continua a essere a esserci ancora oggi ha una funzione culturale questo l'abbiamo visto sia sin dall'Atene di Pericle alla Firenze del Rinascimento la Parigi degli Illuministi la New York odierna rappresenta generalmente la città un elemento dinamico mentre la campagna generalmente porta avanti un modo di vivere più tradizionale e più statica quindi dicevamo dalla rivoluzione industriale infatti nelle città si concentravano le ciminiere di tantissime fabbriche che spesso anche rendevano inquinata l'aria delle città pensate allo smog di Londra si è arrivati poi nell'ultimo periodo ad attività del terziario avanzato infatti oggi come oggi il settore principale nelle città non è più quello industriale ma quello dei servizi la finanza la moda la pubblicità lo spettacolo sono attività che caratterizzano i maggiori centri urbani occidentali nel nostro ventunesimo secolo la popolazione tende a diminuire però perché magari nelle città si concentrano le attività economiche ma molte persone abitano in periferia risiedono nei dintoni della città in quella che abbiamo definito l'area metropolitana ad esempio nell'Interland dove ci troviamo noi per esempio e raggiungono il loro luogo di lavoro con i mezzi propri inquinamento automobili adesso vedremo i progetti l'Interland corrisponde è una parola di credo di derivazione inglese corrisponde appunto a queste periferie della città ai paesi che sono alla periferia della città ma che ormai fanno parte integrante dell'area metropolitana proprio come il nostro paese Corsico fatevi sentire Corsico quartiere Tessera quartiere Lavagna quartiere Giardino insomma noi facciamo proprio parte quindi dell'Interland quindi di questo territorio che è interconnesso con la città è strettamente legato alla città ahimè purtroppo nell'Interland ci sono gravi problemi perché perché sono zone dormitorio spesso in cui la gente semplicemente rimane solo a dormire ma poi tante attività non solo quelle di lavoro ma anche quelle di svago spesso sono concentrate nella città e quindi c'è il problema di rendere vivi invece questi territori che sono altrimenti solo dei paesi dormitorio è il problema nostro dei nostri paesi dell'Interland bene adesso dovremmo parlare un po' dei problemi della i problemi dell'urbanizzazione quali sono i problemi allora il primo problema è la povertà infatti la concentrazione della popolazione di condizione umile cioè degli strati inferiori delle classi sociali più basse della società genera gravi problematiche ci sono sacche di povertà la città attira i poveri dalla campagna la città appunto sono attirati con il sogno di poter fuggire dalla miseria oppure di poter fuggire dalla guerra è evidente qua anche il discorso sulla immigrazione cercare un'occasione migliore di vita questo però genera spesso una sorta di saturazione della città per cui la città non è in grado di accogliere ad esempio nelle sue strutture abitative queste persone e quindi si creano bidonville ecco nelle città bidonville sono pensate alle favelas brasiliane sono dei soborghi in cui la gente vive nel modo più degradato senza servizi per esempio possiamo leggere quello che ci dice un esperto riguardo questo problema Lagos in Nigeria viene spesso dipinta come un posto di estrema privazione ma il tasso di povertà estrema a Lagos è meno della metà del tasso di povertà estrema riscontrabile nella Nigeria rurale anche Calcutta è considerata un posto di grande privazione ma in quella città il tasso della povertà è dell'11% mentre il tasso di povertà nel Bengala occidentale rurale è del 24% quindi è vero quello che abbiamo appena detto cioè che ci sono grandi masse di popolazione povera umile che vive in miseria in gravi condizioni di scassa igiene nelle periferie della città ma è pur vero che comunque spesso queste popolazioni riescono a trovare in qualche modo un modo riescono a trovare comunque un modo di vivere migliore rispetto al loro luogo di origine ad esempio le campagne bene altro problema l'acqua spesso l'acqua potabile e le fognature sono insufficienti questo causa malattie è un alto tasso di mortalità infantile e l'accesso alle fonti di acqua potabile l'accesso alle fognature previsto ad esempio per i grandi palazzi della città non è invece previsto per queste bidonville dicevamo o nelle grandi periferie e quindi ci sono si creano condizioni spesso di igiene scarsa che favoriscono come abbiamo già detto la mortalità infantile i governi cercano di ovviare ma dipende anche dalla situazione politica del paese della nazione se ci sono ad esempio dei governi instabili oppure dei governi corrotti i fondi che dovrebbero essere utilizzati per ovviare a queste problematiche vengono invece incamerati da queste persone senza scrupoli altro problema delle città il traffico il traffico crea disagio e inquinamento ancora insufficienti sono le contromisure ecco quindi anzitutto nella città la concentrazione della popolazione il caos questo era una cosa di cui si lamentava perfino Giovenale sapete chi è Giovenale è un poeta romano allora quando lui parla di Roma dice che non posso portare il fatto di dover andare per strada e dover quasi spintonare la gente perché quasi fa fatica ad avanzare in mezzo alla folla della gente e non posso portare i carri che ad esempio di notte passano continuamente attraverso le vie della città e che disturbano il sonno e poi non posso portare gli incendi spesso le insule cioè i caseggiati un po' fatiscenti della Roma del tempo siccome erano fatti gran parte di legno erano soggetti a incendi descrive un po' tutte queste cose sapete perché? i carri disturbavano di notte perché di giorno non potevano passare perché di giorno c'era la popolazione che passava per le vie della città e quindi loro erano costretti con le merci a passare di notte e il sonno dei romani era turbato c'era il parassitismo nella Roma antica c'era una concentrazione della popolazione alcuni storici parlano di un milione di abitanti di abitanti altri arrivano a ipotizzare addirittura due milioni di abitanti nella Roma antica ecco queste problematiche le possiamo trovare in queste città che come abbiamo visto non abbiamo parlato di città del Messico ad esempio si stanno espandendo in modo esponenziale e questo genera gravi problemi come ad esempio dicevamo proprio il traffico le città sono invase dalle auto e dai gas di scarico ecco abbiamo già parlato una volta ad esempio di Pechino che è una delle città più inquinate non so vorrei farvi vedere un documentario bellissimo se riesco a trovarlo su un soborgo di Pechino che pensate è diventata una città di un milione di abitanti in cui 200.000 di queste persone vivono riciclando i computer spesso provenienti dagli Stati Uniti cercando di tirar fuori da questi computer elementi come il rame o altri elementi che possono avere un qualche come dire possono essere venduti sul mercato ecco quindi dicevamo grandi problemi di inquinamento di traffico che cosa fanno gli amministratori cercano di avviare a questi problemi con i trasporti pubblici magari anche cercando di favorire e di incentivare l'utilizzo dei trasporti pubblici che porterebbe a una diminuzione dell'inquinamento non sempre però queste politiche danno buoni risultati certe altre volte si pensa a un pedaggio per i veicoli che entrano in città ecco pensate ad esempio all'area C a Milano si paga un pedaggio per entrare nel centro della città era stata Singapore la prima nel 1975 a istituire un pedaggio oggi un sofisticato sistema di controlli elettronici addebita automaticamente il pedaggio delle auto in transito e il traffico della metropoli asiatica è uno dei più ordinati e scorrevoli del mondo ragazzi Singapore è una città con mille abitanti per chilometro quadrato vuol dire quindi che ognuno ha uno spazio vitale di un metro quadro quindi davvero una situazione quasi insostenibile Londra è dotata di un efficiente sistema di trasporti pubblici ha seguito l'esempio di Singapore già nel 2003 con il pedaggio per chi entrava nella città con l'auto nel giro di due anni il traffico automobilistico è diminuito del 30% da allora sono numerose le città come Milano dicevamo che hanno adottato simili sistemi con buoni risultati attenzione buoni risultati in genere in queste città ma ci sono tante città di abbiamo detto della Cina piuttosto che dell'India piuttosto che appunto dicevamo città del Messico Sao Paolo eccetera in cui il traffico continua a essere caotico e l'inquinamento è comunque non è ancora sotto controllo concludiamo la nostra lezione come fa il nostro libro insomma con una citazione di un esperto che dice nei paesi in via di sviluppo i governi cittadini dovrebbero fare quello che fece l'Occidente nel XIX secolo e all'inizio del XX fornire acqua potabile provvedendo intanto a rimuovere in sicurezza i rifiuti prodotti dall'uomo devono fare anche quello che troppe città americane non sono riuscite a fare rompere l'isolamento che può privare i ragazzi poveri dei vantaggi goduti dalla gente che vive in una grande città l'istruzione è l'indicatore più affidabile della crescita urbana se osserviamo questa cartina per esempio possiamo capire qual è il tasso di alfabetizzazione nelle varie nazioni del mondo vediamo che solo in Europa piuttosto che in Argentina in Australia diciamo che il tasso di alfabetizzazione è superiore al 97% vuol dire quindi che quasi tutti sanno leggere e scrivere invece in altri stati il tasso di alfabetizzazione diminuisce cioè le nazioni colorate di verde scuro hanno un tasso di alfabetizzazione tra il 90 e il 97% esempio Brasile alfabetizzazione sì cioè vuol dire quante persone sanno leggere e scrivere in percentuale siamo nella parte buona sicuramente poi abbiamo man mano delle nazioni in cui questo tasso di alfabetizzazione diminuisce sempre di più sempre di più fino ad arrivare ad alcune regioni dell'Africa ad esempio la regione subsahariana in cui il tasso di alfabetizzazione è molto basso addirittura è inferiore al 35% vuol dire che in questi stati della fascia subsahariana meno del 35% della popolazione sa leggere e scrivere sì quello in grigio perché non abbiamo dati non abbiamo dati sufficienti per poter stabilire insomma qual è il tasso di alfabetizzazione è importantissimo l'istruzione come indicatore della crescita urbana il prodotto pro capite sale nettamente con le dimensioni dell'area metropolitana se la città offre buona istruzione però altrimenti no le città e le scuole si integrano a vicenda per questa ragione la politica dell'educazione è un ingrediente vitale del successo urbano quindi è inutile concentrare la popolazione nelle città se non si offrono ad esempio adeguati strumenti ad esempio il primo strumento per permettere un'elevazione sociale una dignità uno stato di benessere è quello dell'istruzione come vedete purtroppo non in tutti i paesi l'istruzione è così generalizzata altri video didattici su a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it a tuttascuola.it